Dall'11 al 14 di ottobre alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli si è tenuto il 36esimo convegno nazionale AIPAS, Associazione Italiana di Pastorale Sanitaria. Dal titolo aprirò una strada nel deserto, nuove vie della pastorale della salute, aperte dalla crisi sanitaria. L'obiettivo è quello di una nuova rinascita dei servizi pastorali dopo il terribile tempo del covid, tempo di prova, tempo di percezione dei nostri limiti. Invitati a parlare gli uffici diocesani di pastorale della salute e Caritas con una relazione dal titolo Carità e servizi per la salute. Marina Menna e Rossana Galiandro, direttrici diocesane degli uffici suddetti, hanno potuto riportare testimonianze dirette o in video del percorso dei servizi pastorali a servizio di persone povere, fragili e malate nel terribile anno appena trascorso, indicando anche come invito alla speranza le linee di amore, condivisione e incoraggiamento al tessere relazioni caratterizzante i percorsi da perseguire per un'autentica fraternità di comunità.